e quindi è caccio di rigore questi giocatori hanno lavorato un'intera estate per alzare al cielo questo trofeo ludo e forse sarà tutto deciso da un episodio del genere l'atmosfera qui si taglia con un cortello è incredibile siamo tutti stretti qui come un grandissimo rito collettivo si può palpare l'ansia dei giocatori e dei tifosi qui alla Panamarina solamente guardando i loro volti a 5 a a a a Grazie a tutti.